un cordiale saluto a tutti amici benvenuti su emilia meteo punto tv la primavera continua a mostrare il suo volto più dinamico dopo alcuni giorni di tempo abbastanza stabile con clima decisamente anche molto gradevole adesso il tempo torna a peggiorare una prima perturbazione transiterà nel corso della giornata di oggi sulla nostra regione farà sentire i suoi effetti soprattutto sulla fascia appenninica sulle aree più occidentale ma un po tutta la regione sarà a rischio di nubi anche di qualche pioggia sparsa sulle aree appenniniche peraltro potrebbe anche esserci qualche isolato temporale dal punto di vista delle temperature chiaramente faremo registrare registreranno una generale diminuzione nei valori massimi non comunque particolarmente importante non verrà assolutamente freddo peraltro siamo in un contesto di correnti meridionali dunque sono correnti umide ma al tempo stesso anche piuttosto miti nelle successive 24 48 ore che dire martedì sarà una giornata di tregua con una forte variabilità diciamo avremo alternanza di nubi a schiarite ma il rischio di pioggia sarà un po più basso in attesa di una seconda perturbazione che transiterà sulla nostra regione nella giornata di mercoledì di questo ovviamente ne riparleremo e vi invitiamo anche a visitare il nostro sito web all'indirizzo www.emiliamettio.tv per adesso è tutto amici grazie di essere stati con noi a più tardi grazie a tutti